Dopo otto mesi di lavoro il Cipe ha approvato l'uso dell'economia Restart per 6 milioni e mezzo a fondo perduto per dare incentivi alle imprese del cratere costrette alla chiusura per il lockdown, ma ci sono anche altre delibere approvate per le scuole, per l'assistenza tecnica, uffici speciali e regione, per arrivare ad una cifra totale che si attesta intorno ai 50 milioni di euro. Ad illustrare il tutto il sindaco Pierluigi Biondi in conferenza stampa online con il funzionario dell'ufficio speciale della struttura di raccordo del sindaco Daniele Placidi e il sindaco di Navelli Paolo Federico in rappresentanza dei comuni del cratere. Vengono rimodulate in sostanza le risorse del programma Restart già assegnate dal Mise dopo un grande pressing del comune e del cratere. Questo consentirà di fare un bando per assegnare alle imprese danneggiate risorse, il 70% per l'Aquila e il 30% per il restante territorio, ma tutto sarà più facile perché già sono stati eseguiti, controlli della finanza pubblica. Quando la delibera sarà pubblicata in gazzetta ci saranno dunque 4,5 milioni di euro per l'Aquila e 1,95 per il cratere. Possono beneficiarle le piccole e medie imprese costituite attive alla data del 1 gennaio con codici Ateco bloccati nella prima fase e in regola con tutte le normative. I contributi saranno differenziati per zone, fino ad un massimo di 8 mila euro per l'Aquila e 5 mila per quelle localizzate nel cratere. Il sindaco Biondi chiede che il sistema di controllo non sia eccessivamente rigido e che le modalità di erogazione siano veloci. Placidi ha chiarito che le somme saranno enogate in anticipazione. Entro 180 giorni dalla concessione vanno rendi contate. Il bando di Invitalia sostanzialmente è già pronto. Tra i costi e le spese ammissibili ci sono anche l'acquisto di materie prime e di consumo, prodotti finiti, rimborso utenze per gli immobili e anche il costo del lavoro dipendente per coloro che non hanno beneficiato di altri sostegni. Il sindaco di Navelli Paolo Federico parla di un risultato importante. Circa 2 milioni di euro per le aree del cratere sono una cifra considerevole che andrà a ristorare circa 400 aziende di 56 comuni. Per quel che riguarda le scuole voglio specificare, ha detto Biondi, che non è un regalo del governo. Era prevista già un'annualità, la prima di finanziamento. Ora si può far partire il bando per la realizzazione dei progetti di quattro scuole, che sono Primaria Celestino V per poco più di 2 milioni di euro, Infanzia San Giovanni Bosco 381 mila euro, Infanzia e Primaria San Sisto Santa Barbara per 2 milioni e 700 mila euro, Infanzia Pettino e Vetoio per 2 milioni e 600 mila. Ci sono anche fondi per l'assistenza tecnica, per uffici speciali e regione. Il sindaco ha parlato anche del lavoro fatto per la stabilizzazione dei lavoratori. Quando sono entrato ha detto c'erano 100 pregari. Quando terminerò il mandato non ce ne sarà uno. Stoccata finale all'onorevole Stefania Pezzopane, che secondo il sindaco rivendica il lavoro fatto da altri. Il sindaco ha annunciato poi di Aveschietto una lettera al governo per far inserire nella legge di bilancio il contributo per le maggiori spese e minori entrate per il sismo a 2009, per l'Aquila e le Cratere. Chiesti per il triennio 2021-2023 10 milioni di euro per l'Aquila e un milione e mezzo per il Cratere.